Musica Benvenuti a TeleCRU, il notiziario settimanale dell'Assemblea Legislativa dell'Umbria. Audizione in prima commissione per i vertici di Gepafin, società che supporta le piccole e medie imprese Umbre nel reperimento di risorse finanziarie. Ce ne parla David Mariotti Bianchi. La prima commissione dell'Assemblea Legislativa dell'Umbria ha ascoltato in audizione il presidente di Gepafin, Salvatore Santucci, e il direttore Marco Tilli per avere un quadro sui programmi aziendali e sugli obiettivi di medio-lungo termine del piano industriale della società, anche a seguito dell'autorizzazione da parte di Banca d'Italia sulla concessione di finanziamenti alle imprese. Il presidente Santucci ha ricordato che Gepafin nasce per supportare le piccole e medie imprese Umbre nel reperimento di risorse finanziarie. Santucci ha espresso soddisfazione e senso di responsabilità per l'autorizzazione concessa dalla Banca d'Italia, visto che siamo l'unico soggetto a detto iscritto in Umbria. Gepafin, a fine 2016, aveva 2.500 posizioni attive, di cui 2.000 imprese Umbre, con 284 milioni di interventi originali, di cui oggi 205 attivi, che hanno fatto da volano per circa 550 milioni di interventi, con un residuo di finanziamenti ad oggi di oltre 300 milioni. Tutto questo con fondi che vengono dalla programmazione comunitaria e regionale. Con l'iscrizione all'albo della Banca d'Italia, Gepafin può anche operare direttamente con il proprio patrimonio, che ammonta 16 milioni di euro. I nostri fondi di rotazione sono risorse che rimangono a disposizione della nostra regione, ha ricordato Santucci una dotazione permanente di capitale a disposizione delle imprese del territorio. Il direttore Tilli ha detto che Gepafin è stata coinvolta da subito sul post-terremoto. Abbiamo innalzato il livello di garanzia, portandolo dal 50% all'80% per i soggetti economici che hanno subito danni diretti e indiretti e non solo nel cratere. Da gennaio siamo diventati operativi con le banche. Al momento abbiamo concesso 1.300.000 euro per 40 imprese nell'area di Norcia e Cascia. Inoltre, tramite il fondo ASCI, abbiamo creato un contatto con il comune di Spoleto per l'housing sociale ed ora è in fase di studio la costruzione di 40 alloggi. L'Umbria, ha ricordato Tilli, è una delle regioni con più alto tasso di sofferenze nel sistema bancario. A fine 2015 erano al 16,5% contro una media italiana dell'11,6% e l'incremento delle insolvenze rispetto al 2011 è di oltre il 100%, un dato, questo tra i peggiori in Italia. Stessi limiti e distanze da luoghi sensibili per sale scommesse e sale da gioco. Via libera dalla terza commissione alla proposta di legge di Carla Casciari del Partito Democratico che detta nuove norme per il contrasto alla ludopatia. Vediamo. Con 5 voti favorevoli, Casciari, Guasticchi, Solinas del Partito Democratico, Rometti, Socialisti e Riformisti, Carbonari Movimento 5 Stelle e Due Astenuti, Nevi di Forza Italia e De Vincenzi Ricci Presidente, la terza commissione, presieduta da Tilio Solinas, ha dato il via libera alla proposta di legge predisposta da Carla Casciari del PD che mira a modificare la legge regionale 21 del 2014 che detta norme per la prevenzione, il contrasto e la riduzione del rischio della dipendenza da gioco d'azzardo patologico. L'iniziativa legislativa prevede sostanzialmente l'equiparazione tra le sale da gioco e le sale scommesse, sottoponendo anche quest'ultime ai limiti previsti relativamente alla distanza dei luoghi sensibili, 500 metri, come scuole, centri di aggregazione giovanili e luoghi di culto. Obiettivo importante, ha rimarcato Casciari, è quello di fornire alle amministrazioni locali ulteriori strumenti per affronteggiare con tempestività e certezza i rischi provenienti dal proliferare, anche sul territorio regionale, di luoghi dediti ad attività riconducibili. al gioco d'azzardo. La proposta di modifica prevede il coinvolgimento dei gestori delle sale scommesse nei percorsi di formazione obbligatoria per le sale da gioco e introduce la diffusione di materiale informativo sul rischio del gioco patologico anche nelle sale scommesse. Approvato con sei voti favorevoli, Casciari, Guasticchi, Solinas del PD, Rometti dei Socialisti e Riformisti, Carbonari, Movimento 5 Stelle e De Vincenzi di Ricci Presidente e un assenuto Nevi di Forza Italia, un emendamento di Andrea Smacchi del PD, concernente la possibilità per i comuni di disporre limitazioni orarie all'esercizio del gioco tramite appositi apparecchi posizionati all'interno delle sale da gioco, delle sale scommesse, degli esercizi pubblici e commerciali, dei circoli privati e dei locali in cui vi sia offerta di gioco lecito con avvincite in denaro. Casciari, indicata come relatore unico in aula, ha spiegato che la modifica legislativa proposta va ad armonizzare il testo normativo regionale alla luce della più recente giurisprudenza in materia, ricordando che con sentenza del Consiglio di Stato è stata parificata l'attività di gestione delle scommesse lecite a quella svolta nelle sale da gioco. Il Comitato per il monitoraggio e la vigilanza sull'amministrazione regionale ha incontrato il presidente e il collegio sindacale del gruppo Grifo Alimentare per una informativa sulla situazione della società. Marco Paganini. Un bilancio che nel 2016 ha raggiunto i 54 milioni di euro suddivisi tra 50 milioni del settore lattiero caseario e il resto da attività integrative. Circa 300 persone, tra dipendenti e autonomi, che lavorano per il gruppo. Questi alcuni dei numeri del gruppo Grifo, il cui Presidente Carlo Catanossi è stato ricevuto dal Comitato per la Vigilanza e il Monitoraggio sull'amministrazione regionale per un'audizione che ha riguardato soprattutto lo stato attuale della cooperativa e i programmi di sviluppo, le linee di azione per il futuro, gli effetti delle dinamiche dei prezzi sulle materie prime della filiera casearia. Catanossi ha spiegato che il gruppo Grifo ha 68 soci, tra cui le università attraverso la Fondazione di Agraria e lo Stato attraverso il Centro di Ricerca di Monte Rotondo. Circa 250 produttori conferiscono alla Grifo, che lavora gran parte del latte, bovino e ovino dell'Umbria. La regione Umbria detiene una quota intorno a 180.000 euro, derivata dall'incorporazione nel gruppo di una cooperativa di cui la regione aveva una quota. Tre sono gli stabilimenti per il caseario a Ponte San Giovanni di Perugia, Colfiorito e Norcia, con un investimento di 25 milioni di euro che ha riguardato gli stabilimenti di Colfiorito, costruito nel 2015, e Norcia, dove sono stati unificati due stabilimenti preesistenti. La scelta di queste località è stata dettata non da motivi economici, ha spiegato Catanossi, che avrebbero consigliato invece di costruire una struttura unica in un luogo meglio raggiungibile. Norcia rappresenta la volontà di stare sul territorio, nonostante le difficoltà, e di avere anche un marchio di formaggi ben caratterizzato che permetta di espandersi sui mercati delle regioni vicine. Audizione a Palazzo Cesaroni sul disegno di legge della Giunta regionale, che prevede modifiche di integrazioni in merito alla normativa sul diritto allo studio universitario. Vediamo il servizio. Importante e condivisibile l'obiettivo della riforma di prevedere prioritariamente l'internazionalizzazione delle attività dell'Avisu. Serve però maggiore sinergia tra università e regione. Un solo rappresentante per Ateneo nella conferenza permanente è troppo restrittivo. Nella gestione dei finanziamenti definire con più cura il percorso. Bene l'istituzione di Umbria Academy, lo strumento attraverso il quale l'Avisu punta ad una maggiore internazionalizzazione degli Atenei, dell'Accademia e del Conservatorio. Ma serve capire bene la strutturazione della collaborazione interistituzionale. L'Avisu potrà avvalersi della gestione delle attività di Umbria Academy, di personale delle università e viceversa. L'Istituto dell'Avalimento spesso ha creato problemi in sede di applicazione. Per questo è necessaria una maggiore chiarezza. È quanto emerso in terza commissione, presieduta da Tilio Solinas, dai soggetti interessati al disegno di legge della Giunta regionale, che apporta ulteriori modificazioni e integrazioni alla legge regionale 6 del 2006, che è detta norme sul diritto allo studio universitario. Nel corso degli interventi è stata espressa preoccupazione in merito agli importanti compiti affidati all'Avisu, senza però la previsione di specifiche risorse finanziarie regionali. L'obiettivo, è stato più volte rimarcato, è quello di evitare la dispersione di cervelli e intelligenze che troppo spesso lasciano l'Umbria per andare altrove, sovente all'estero, mentre per il dopo laurea è stata auspicata la previsione di fondi specifici per creare start-up sul territorio al fine di garantire opportunità lavorative agli studenti. Sono intervenuti, sottolineando sostanzialmente la condivisione dell'iniziativa di riforma dell'Agenzia per il diritto allo studio universitario dell'Umbria, predisposta dalla regione, rappresentanti delle università, degli studenti e dei sindacati. I consiglieri regionali presenti si sono impegnati ad approfondire attentamente le proposte emerse nel corso dell'audizione, contestualmente ad altre indicazioni contenute in documenti recapitati direttamente alla Commissione. Verifica della legislazione prodotta dalle regioni, una priorità delle assemblee elettive a Palazzo Cesaroni, workshop sulla missione valutativa delle leggi. Vediamo. La verifica della qualità della legislazione prodotta deve rappresentare un'assoluta priorità delle regioni. L'obiettivo è quello di ottimizzare il percorso per definire risultati utilizzabili e per questo servono risorse professionali ed una sempre più stretta collaborazione tra assemblee legislative ed esecutivi. Controllo e valutazione che vadano dunque oltre gli atti ispettivi che i consiglieri regionali pongono agli esecutivi. È quanto emerso dal workshop che si è svolto la scorsa settimana a Palazzo Cesaroni, organizzato dalla conferenza dei presidenti delle assemblee legislative di regioni e province autonome, dal progetto Capire, controllo delle assemblee sulle politiche e gli interventi regionali, dall'assemblea legislativa dell'Umbria. I lavori ai quali hanno preso parte i tecnici che nelle assemblee legislative si occupano di analisi e valutazione delle politiche pubbliche e quelli degli enti regionali di ricerca, sono stati aperti dalla presidente dell'assemblea Umbra, Donatella Porzi, che si è soffermata sull'attitolo missione impossibile, è una provocazione, ha detto. Tutti noi pensiamo che quello della valutazione della legislazione prodotta dalle regioni sia un processo difficile e per questo necessita di un grande impegno, di una comprensione del valore della valutazione e dell'esigenza di un diverso modo di agire all'interno delle assemblee. Tra gli interventi, quelli di Silvano Rometti, presidente della commissione speciale per le riforme statutari e regolamentari dell'assemblea legislativa dell'Umbria, che ha rimarcato, tra l'altro, l'importanza di passare realmente da un controllo di tipo formale e burocratico a uno sui risultati effettivi e sulle ricadute di una determinata legge sulla comunità regionale. Questo, ha spiegato, ci consentirà di ridefinire la programmazione e cambiare le scelte, anche arrivando ad eliminare le leggi che non hanno funzionato. Le conclusioni sono state affidate alla vicepresidente dell'Assemblea legislativa, Valerio Mancini, che ha evidenziato come il ridimensionamento della funzione legislativa dell'Assemblea sia verificabile nel numero limitato di leggi che si approvano, peraltro, ha detto, proposte in prevalenza dall'esecutivo. E questo non deve trasformarsi in una perdita del ruolo dell'Aula. È indispensabile, ha concluso, rafforzare le funzioni di indirizzo e di controllo sull'applicazione delle leggi e di verifica dei risultati conseguiti. Ed anche per questa edizione è tutto. Vi ricordo che TeleCRU va in onda sulle emitenti televisive dell'Umbria ed è disponibile anche in rete sul sito dell'Assemblea legislativa regionale consiglio.regione.umbria.it e su YouTube. Grazie per averci seguito e arrivederci alla prossima settimana. Grazie a tutti.